In questa puntata della nostra trasmissione siamo in compagnia del direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Valerio, con il quale possiamo cominciare a parlare della chiusura della bottega del caffè, nel senso che a Ferrara la scorsa settimana la tournée si è appunto conclusa. Una tournée che ha avuto un enorme riscontro, seguito al riscontro ancora della scorsa stagione, segno che quel testo di Goldoni molto particolare, forse meno noto di altri, dice ancora qualche cosa. È proprio così, abbiamo fatto due anni bellissimi con questo spettacolo, è stata una tournée straordinaria nei principali teatri italiani, con un grande Michele Placido, bravissimo protagonista, è una compagnia molto bella di attori giovani e molto motivati, molto appassionati, quindi davvero è molto bello concludere un anno così e fare così tanti teatri importanti in Italia. Che cosa significa per una realtà come lo stabile essere in tournée? È fondamentale, nel senso che gran parte del nostro lavoro è a Trieste, ma la compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha questo compito, ha il desiderio di portare le grandi produzioni in tutta Italia e quindi sia con spettacoli così importanti che con altre piccole produzioni, per noi l'obiettivo è portare il nome di Trieste in tutta Italia, quindi questo è molto bello e ci confrontiamo in questo modo con i migliori teatri italiani. Ecco, perché poi c'è da dire anche questo, ci sono anche le produzioni più piccole che circolano e anche questo contribuisce a far conoscere la realtà del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, a farla conoscere meglio perché insomma la si conosce già. Assolutamente sì, quest'anno per esempio ho girato in tournée un anno di scuola che ha avuto un bellissimo successo di Stuparic con la regia di Alessandro Malinuzzi. Era l'estate, le vacanze cominciate da poco, una mattina entrai nella scuola dove insegnavo per poter fare un po' di ordine nel mio cassetto. ...di Muggia, salutate il divin riso dell'Adria, fin dove Pola ai Templi ostenta a Roma e a Cesare, poi presso l'Urna, dove ancora fra due popoli... ...avrebbe dato l'esame e la sua volontà, vinse! Poi ha girato il mio spettacolo sul tennis che è stato a Napoli la scorsa settimana e quindi anche quello è un piccolo progetto nato qui a Trieste e poi naturalmente la trilogia Joyce, Saba e Svevo di Mauro Kovacic che anche questa sta spesse volte a Trieste ma spesso in tournée in tutta Italia e il Mercante di Venezia che ha finito la tournée e riprenderà l'anno prossimo aprile-maggio del 24 e poi altri progetti come ad esempio Ipodrecca che noi appena possiamo portiamo in tournée quindi tanti piccoli e grandi spettacoli che portano al nome del nostro teatro in tutta Italia. Parliamo un po' di prosa, parliamo della stagione appunto in corso che per quanto concerne la prosa mostra quei segni di rinnovato interesse di cui c'era bisogno anche immagino per voi che programmate le stagioni e che alle stagioni lavorate. Sì, è un anno che sta andando molto bene il segnale in tutta Italia è che i teatri sono un luogo davvero importante di aggregazione tutti i teatri in Italia vanno bene, stanno crescendo e per noi quest'anno è stata una stagione davvero molto particolare in cui siamo cresciuti sugli abbonati, sugli spettatori di tutti i generi e di tutti i tipi di spettacoli e adesso abbiamo un fine stagione davvero molto molto interessante perché porteremo nelle prossime settimane un pirandello molto particolare come tu mi vuoi con una grandissima Lucia Lavia, un'attrice ormai di grande maturità e di grandissimo talento e poi a seguire uno spettacolo a cui teniamo molto è La vita davanti a sé Emila Jarre, un grandissimo autore pubblicato a Aniripozza in Italia con Silvio Orlando che è poetico, toccante e divertente e i quattro musicisti in scena, uno spettacolo che ha fatto tutto esaurito in molti teatri italiani e poi ancora variazioni enigmatiche un testo meraviglioso di Enrico Manu Schmidt con Mauri Sturdo una coppia per noi davvero di casa e davvero il grande maestro Mauri qui a Trieste è molto molto atteso Com'è che la vita davanti a sé mi pare di capire che è declinata al maschile di solito si immaginano grandi protagonisti femminili c'è il film più recente con Sofia Loren su Netflix c'è stata una grande interpretazione di Simone Signoret ancora a metà degli anni settanta in un film che purtroppo si vede poco qui cos'è il protagonista che riflette sulla sua storia il protagonista, il bambino immagino che riflette sulla sua storia è un dialogo, è un dialogo tra il grande protagonista Silvio Orlando che ha anche lavorato all'adattamento a questo suo progetto e il bambino quindi parlano insieme della loro vita questa storia così semplicemente avventurosa e così poetica e toccante faccio riferimento ad uno spettacolo che è andato in scena credo all'inizio di quest'anno ed è il compleanno di Pinter che è uno spettacolo non facile per dire la verità fra l'altro che si prestava tutta una serie di interpretazioni se incontravi quattro persone e chiedevi la trama ti raccontavano quattro trame completamente diverse mi è parso di capire che questo spettacolo ha unito anche le generazioni e credo che forse questa deve essere la chiave di volta questo è il compito dei grandi registi come in quel caso Peter Stein un grande regista che legge e riesce attraverso il teatro proprio a fare questo, a unire le generazioni perché questa è la nostra grande sfida la nostra grande sfida è il rinnovamento del teatro attraverso un nuovo pubblico e quindi quello che facciamo tutti i giorni è avvicinare i ragazzi, gli universitari il mondo della scuola al teatro per ricevere l'emozione dello spettacolo dal vivo attraverso questi insegnamenti quindi è esattamente così un passaggio generazionale Mario, coscienziosamente non rivelo ciò che so della prossima stagione perché magari rimandiamo ad un ulteriore incontro assolutamente sì, abbiamo grandi sorprese quindi alla prossima sono molti gli appuntamenti dei quali dobbiamo occuparci in questa puntata il primo è in programma l'11 aprile si tratta di Coast to Coast uno spettacolo a metà fra il racconto a metà fra lo spettacolo musicale che porta a Trieste nuovamente Rocco Papaleo che ne è anche l'autore assieme a Walter Lupo così Rocco Papaleo ci spiega appunto lo spettacolo Coast to Coast beh assolutamente è uno spettacolo musicale naturalmente insomma io non posso prescindere dalla musica nei miei spettacoli quindi c'è una band che suona il personaggio che racconta e canta è come una lunga canzone in fondo lo spettacolo una canzone che però a volte sembra non avere delle note ma si muove sulla melodia del racconto il 12 aprile sempre alla sala assicurazioni generali del Politeama Rossetti arriva salutava sempre lo spettacolo di Alessandro Cattelan che è un one man show che sta facendo il tutto esaurito nel nostro paese il 13 di aprile rimarrà a Trieste fino al 16 appunto Come tu mi vuoi di Luigi Pirandello con Lucia Lavia diretta da Luca De Fusco si tratta di un testo non molto rappresentato nel nostro paese a dire la verità anche qui la storia raccontata è quella di una donna diciamo senza un passato e ricorda un po' le ambientazioni di così essere vi pare quantomeno nell'impostazione è un testo comunque molto rappresentato all'estero molto più che in Italia ed è un dato abbastanza curioso per quanto riguarda appunto la rappresentatività diciamo così di Pirandello al 20 di aprile rimarrà fino al 22 di aprile arriva invece un musical tutti parlano di Jamie di Jonathan Batterell diretto da Pietro Di Blasio che ne ha curato anche la versione italiana e interpretato da Giancarlo Comare è uno spettacolo molto allegro, molto divertente ma come per certi aspetti è accaduto anche con come accade con Priscilla, la regina del deserto è un musical che parla di inclusione è un musical che fa pensare è uno spettacolo di quelli verrebbe da dire necessari necessari per comprendere attraverso la musica attraverso un tono apparentemente leggero anche la condizione anche la condizione umana è uno spettacolo davvero da non perdere tutti parlano di Jamie dal 20 al 22 aprile al Rossetti vi ricordo il 25 e il 26 aprile Bolle & Friends ancora Roberto Bolle sul palcoscenico del Rossetti ancora un incanto per tutti quelli che amano la danza a livelli eccellenti come quelli che propone appunto Roberto Bolle Roberto Bolle coadiuvato da altri danzatori di grande professionalità poi ancora La vita davanti a sé La vita davanti a sé va in scena dal 27 al 30 di aprile è uno spettacolo sotto forma di monologo tratto dal romanzo di Romangari ne ha parlato come ha parlato anche di Come tu mi vuoi il direttore del teatro stabile nell'intervista che gli abbiamo realizzato che gli abbiamo fatto qualche giorno fa La vita davanti a sé è uno spettacolo molto particolare, molto sincero e molto sottile che vede appunto in scena Silvio Orlando che ne ha curato anche la traduzione e la rivisitazione diciamo così per il teatro è un testo che molti conoscono perché il libro è uno dei più letti adesso è stato ristampato da Neripozza e dicevamo è una sorta di monologo attraverso il quale il protagonista Momò ripercorre anche il suo rapporto con Madame Rosat Madame Rosat sapete è la protagonista del libro libro che conosce diciamo così due trasposizioni cinematografiche una degli anni 70 con Simone Signoret per la quale la Signoret fra l'altro vinse il César e una più recente che vede protagonista Sofia Loren grazie a questa interpretazione Sofia Loren fra l'altro vinse il David di Donatello ancora un avviso Lord of the Dance il grande spettacolo che si ispira alla tradizione folcloristica irlandese e che è in scena il 27 di maggio avrà una replica in più domenica 28 maggio per questa settimana è tutto arrivederci alla prossima settimana l'uva 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 Grazie a tutti.